pace bene cari fratelli e sorelle bentrovati solennità di cristo re dell'universo che conclude l'anno liturgico esistenzialmente questa solennità ci ricorda che la storia non è in balia del caos ma tutto ha un principio e una fine anzi un fine cristo signore ancora più personalmente ci ricorda che la nostra storia la tua storia non parte dal caso e va verso il nulla ma è sognata ed è amorevolmente condotta da un amore provvidente che fa di tutto per condurla al suo compimento il vangelo di questa domenica ci consegna la conclusione del discorso escatologico di gesù con le parole sul giudizio universale dal quale vogliamo cogliere due spunti primo l'umanità su cosa sarà giudicata secondo il signore gesù che un giorno incontreremo come nostro giudice misericordioso ora dov'è che lo incontriamo vediamo un po gesù parla di sé alla terza persona e afferma che un giorno l'umanità sarà riunita davanti al figlio dell'uomo servendosi di una immagine tratta dal profeta ezechiele gesù afferma che separerà gli uni dagli altri come il pastore separa le pecore dalle capre e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sua sinistra questa separazione miei cari sarà la ratifica di ciò che abbiamo vissuto qui ma su cosa averterà su cosa saremo giudicati tutti anche chi non ha conosciuto il signore a quelli alla sua destra dirà venite benedetti dal padre mio ricevete il regno preparato per voi sin dalla fondazione del mondo perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare ho avuto sete e mi avete dato da bere ero straniero e mi avete accolto nudo e mi avete vestito malato e mi avete visitato ero in carcere e siete venuti a trovarmi ed ecco la risposta stupita di tanti che non lo sapevano ma quando mai signore abbiamo visto te povero bisognoso malato carcerato non è possibile in verità vi dico tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli l'avete fatto a me di contro quelli che verranno posti alla sinistra sono quelli che ho avuto fame non mi avete dato da mangiare ho avuto sete non mi avete dato da bere insomma ero bisognoso e non mi avete aiutato dunque miei cari il giudizio per tutti su cosa averterà sulla carità sull'amore dato o negato ai bisognosi non su un vago sentimento saremo giudicati sulle opere sulla compassione che si fa aiuto concreto al bisognoso e qui miei cari non stiamo parlando di gesti sporadici fatti magari per acquietare la coscienza ma di uno stile di vita vissuto da chi ha saputo riconoscere nel bisognoso il volto di un fratello di una sorella dunque si è prodigato per dare da mangiare da bere per aiutare chi è povero spendere tempo per stare con chi è solo prendersi cura dell'ammalato andare a trovare il carcerato e l'ho fatto semplicemente per amore qui noi stiamo parlando di opere alla portata di tutti e per farle non c'è da essere cristiani ma lasciatemelo dire c'è da essere umani c'è da lasciarsi interpellare dalla sofferenza dell'altro facendomi suo prossimo in questo senso il bisogno e la sofferenza dell'altro sono una chiamata per me una chiamata ad uscire da me e a donarmi di più molto bella tal proposito una testimonianza raccontata da madre teresa una notte un uomo è arrivato alla casa delle suore e mi ha detto c'è una famiglia con otto bambini non mangiano da giorni ho preso un po di cibo e mi sono incamminata quando sono giunta da loro ho visto i volti di quei piccoli segnati dalla fame i loro visi non esprimevano dolore o tristezza solo la profonda sofferenza causata dal digiuno ho dato il riso alla madre che lo ha diviso in due parti ed è uscita con metà della razione al ritorno le ho chiesto dove sei andata mi ha dato una risposta molto semplice dai miei vicini anche loro hanno fame il suo altruismo non mi ha sorpresa i poveri sono molto generosi mi ha stupito invece che sapesse dei suoi vicini di solito quando soffriamo siamo infatti così concentrati su noi stessi che non abbiamo tempo per gli altri vedete tutto ciò ci fa bene e ci aiuta a risvegliare un po il nostro cuore se ci fate caso le parole che il signore rivolge a coloro opposti alla sinistra ho avuto bisogno e non mi avete aiutato non evidenziano il male commesso ma il bene omesso l'amore non donato quante volte purtroppo siamo indifferenti ai bisogni delle persone che abbiamo accanto o che incontriamo nel nostro quotidiano quante volte manchiamo di sensibilità nel metterci nei panni dell'altro che ci sta manifestando un bisogno una sofferenza peggio che peggio quante volte ci rinchiudiamo nel nostro egoismo troppo presi dai nostri bisogni e poco attenti ai bisogni degli altri troppo presi dai nostri problemi e poco attenti alle sofferenze degli altri allora la domanda è ma io vedo le sofferenze vedo i bisogni e cerco di donarmi per quanto posso oppure corro sempre corro ma verso dove corro ma l'anima dove la sto lasciando ma andiamo avanti miei cari passiamo al nostro secondo punto abbiamo sentito l'espressione stupita di quanti sentono le parole del giudizio tutto quello che avete fatto o non avete fatto al più piccolo dei miei fratelli l'avete fatto o non lo avete fatto a me parole forti che ci fanno capire tra l'altro che i sofferenti e i miserabili della terra sono anche il nostro lascia passare per il cielo se ce ne prendiamo cura di contro escluderli disprezzarli e auto escluderci dal cielo ora tante persone con stupore sentiranno nel giorno del giudizio queste parole ma noi credenti le sappiamo cioè noi sappiamo che nel povero si rende presente cristo che in un certo modo il povero è sacramento di cristo perché con lui cristo stesso ha voluto identificarsi il signore gesù che un giorno incontrerò come giudice misericordioso ora dove lo incontro nel fratello nella sorella soprattutto nel bisognoso è lì che lo incontro qui c'è un di più qui siamo oltre ogni filantropia umana qui non si tratta soltanto di voler bene all'altro perché lo riconosco come fratello come sorella ma qui si tratta di riconoscere che lì c'è gesù ricorderete l'esperienza molto forte di madre teresa della sua chiamata nella chiamata quando vedendo un povero morente per le strade di calcutta sentì nel suo cuore risuonare le parole di gesù o sete lì cristo stava gridando a lei al suo cuore allora miei cari se noi facessimo veramente nostre queste parole di gesù ma quanta bellezza in più si potrebbe espandere attraverso di noi sapere che nell'ammalato che sia un parente anziano o uno sconosciuto in un povero incontrato per la strada io posso incontrare cristo e amarlo attenti miei cari queste parole non tolgono la fatica che comportano certe situazioni il prendersi cura di un ammalato giorno dopo giorno servire i poveri che sono poveri in tutte le loro dimensioni e tante volte non sono facili da gestire avere un cuore aperto verso tutti accogliere con stima un immigrato riconoscere il volto di cristo in un carcerato che anche ha sbagliato nella sua vita ma queste parole illuminano questa fatica benedetta rinnovano in noi la gioia e la forza di amare e di amare per amore di dio e con il suo amore in noi miei cari se sapremo riconoscere e adorare gesù presente nell'eucaristia e sapremo riconoscerlo e amarlo negli altri specie nei bisognosi allora sì che saremo veramente dei contemplativi in azione sempre madre teresa diceva non dimenticherò mai il giorno in cui mentre mi trovavo in venezuela ho fatto visita a una famiglia che ci aveva regalato un agnello sono andata a ringraziarli e ho scoperto che avevano un bambino storpio quando ho chiesto alla madre come si chiama il piccolo la donna mi ha dato una risposta stupefacente lo chiamiamo maestro d'amore perché ci insegna di continuo come amare tutto quello che facciamo per lui rappresenta il nostro amore attivo per dio allora mi cari la domanda è ma io mi avvicino a gesù presente nella persona dei malati dei poveri dei sofferenti dei carcerati di coloro che hanno fame e sete di giustizia cari fratelli e sorelle davanti a queste parole del signore siamo dunque chiamati ad aprire il cuore all'amore fattivo concreto reale e chiedere la grazia di poterlo incarnare perché un giorno presentandoci davanti a lui possiamo sentirci dire vieni benedetto dal padre mio vieni benedetta dal padre mio perché avevo bisogno e tu mi hai aiutato che il buon dio vi benedica pace e bene a tutti